E' un brano molto particolare, perché il titolo è eseguzionale. Oh, aspetta, sto parlando, scusami eh. C'è, matto. No, mi ha deciso... adesso provo di fare tutto tu, va bene. E' un brano che mi sono ispirato al medioevo, ma è attuale anche ai giorni nostri. Il titolo dice tutto. Ti ho detto che sto parlando, sto parlando. Niente, va bene. Ha deciso di iniziare a suonare, quindi, mi dispiace, devo suonare in giro. Eseguizioni. Eseguile a suonare. Eseguizioni. 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 Eseguizioni.